Ciao cari follower, vi do il benvenuto sul mio canale. La reazione di Engina Kurek a Serene Sarikaya. No caro, che importa? L'attore Engina Kurek ha preso di mira la sua collega Serene Sarikaya, che dopo aver ricevuto il premio ha detto, ancora io, ancora io. Il messaggio di Engina Kurek, oh mio Dio, abbiamo così pochi giocatori di talento, è stato ampiamente discusso sui social media. Serene Sarikaya, che ha condiviso il ruolo principale con Kivan Ktatlitug nella serie TV Aile, ieri sera ha lasciato il segno nella cerimonia. L'attore, ritenuto degno di due premi, ha espresso la sua gioia con le parole, ancora io, ancora io, ancora io. Sarikaya, uno dei nomi più chiacchierati nel mondo delle celebrità, ha ricevuto una reazione straordinaria dal suo collega Engina Kurek. Ancora una volta, ancora una volta, Engina Kurek ha fatto un commento sui social media, riferendosi alla bellissima attrice che gridava, me, durante la cerimonia di premiazione. Ancora una volta, quel punto, ancora quel punto, mio Dio, abbiamo così pochi giocatori di talento. Non ci credo. Si tratta di premi per la pubblicità delle organizzazioni? Vengono sempre assegnati a nomi famosi. Ancora una volta, punto no caro, cosa c'entra? Questo post è diventato trend sui social media. Questa reazione e commento di Engina Kurek a Serene Sarikaya sono entrati nella lista più discussa sui social media. Cari spettatori, grazie a tutti per aver guardato il mio video. Arrivederci. Ci vediamo nei nuovi video.